Ciao a tutti oggi prepareremo il sorbetto al lime speziato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 10 minuti circa. Gli ingredienti sono zucchero semolato, lime pelati al vivo, cubetti di ghiaccio, foglioline di menta e vodka liscia. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale le foglioline di menta e lo zucchero semolato e li facciamo polverizzare in 10 secondi a velocità 10. Aggiungiamo sul fondo del boccale lo zucchero. Aggiungiamo lo zenzero che abbiamo sbucciato. E i lime pelati a vivo e privati dei noccioli. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 10. Adesso aggiungeremo la vodka liscia e i cubetti di ghiaccio. Chiudiamo con il coperchio senza il misurino. Al posto del misurino posizioniamo la spatola del bimbi e azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 8 spadolando. Il sorbetto al lime speziato è pronto. Serviamolo subito. Sorbetto al lime speziato. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.